Una residente del Rione Marina, Garcella Guidi, che vive fin dall'età di 15 anni, nell'ultimo periodo esiste un problema sicurezza qua nel Rione? Grandissimo! Proprio ormai che si deve anche buttare l'immondezza qui nella piazzetta dietro a casa mia, non si può buttare. Lei abita in via? Porcile. In via Porcile, quindi una delle vie storiche del Rione Marina. Non c'è sicurezza e come mai? Ci sono troppi emigrati che girano, sbandati, devono passare la giornata così, passano la giornata così, alle prime occasioni prendono quello che riescono a prendere. Le persone anziane, anche i giovani, che i giovani, molte volte, se non sono in gruppo, uno è da solo, è pericoloso ormai. Lei da cittadina quindi non si sente sicura? No, io prima uscivo molto di più la sera, anche dopo le 9, girare fino a piazza Iene, adesso non esco più. E da cittadina lei che cosa chiede alle istituzioni, al comune? Sicurezza, più controlli, tutto lì. Ma oltretutto quando li prendono, è inutile che li prendono, li tengono 24 ore e poi li buttano fuori. Devono risolvere il fattore di dove metterli. In una scala da 1 a 10 rispetto a qualche mese fa, quanta paura in più c'è? Beh, diciamo che adesso siamo arrivati quasi a 8 o 9. Grazie. Grazie. Grazie.